In questo video voglio parlarti di alcune tecniche specifiche per lo studio dei passaggi, ricchi di note e molto veloci. Uno step fondamentale è quello di confrontarsi sin da subito con la velocità finale del passaggio, ma a piccole dosi. Quindi prendi delle piccole porzioni del tuo passaggio, per esempio può essere una battuta, e suona questa battuta velocemente al tempo finale, per poi interromperti alla fine, resettarti completamente, sciogliere le eventuali tensioni che si sono create e poi andare avanti così di battuta in battuta. Grazie